ciao bella gente io sono Pimoth benvenuti sul mio canale allora penso che questa sia l'idea più stupida più cretina che io abbia mai avuto perché sono praticamente sotto una bufera di neve letteralmente mi trovo a Chamonix in Francia ma come vedete alle mie spalle ho trovato una roba superfiga paradisio pizza quanto io fanno la pizza in tre minuti cucinata in tre minuti quindi mi sembra un'ottima idea dopo aver mangiato un bel mcdonald di essermi riempito fino al buco del culo di provare anche questa pizza perché sono curioso anche di provare una di queste specialità allora io non capisco il francese ah jambon sarà il prosciutto peperoni mozzarella e crema bravo vabbè no no sbagliato io proverei sauce tomate e che palle ok pomodoro prosciutto champignon no a queste mi sa che sono finite proviamo route 66 sauce barbecue vabbè dai route 66 era più schifosa che mi sembra però proviamo quella allora come fare forse devo selezionare mi sa questa fredda no calda valider route 66 totale continua ok il pagamento allora non so se sta roba è stata una buona idea oppure no ve lo dico tra poco enter your pin ok codice accettabile già una buona cosa please wait ritiro la carta la vostra comanda in fase di preparazione vostro pizza ok no non lo voglio la scampina cosa me ne frega ok qua mi dice che è in preparazione in teoria quello del forno ok si sta muovendo qualcosa cioè raga avete presente mangiarmi una pizza così adesso dopo la mette avanti in mezzo alla neve non penso sia una buona idea però sapete che mi piace provare tutte le cose strane e uffici di strani questa è una pizza non è che sia tanto di strano però una pizza fatta da una macchinetta che te la fa in tre minuti curioso sono curioso poi non so se questo video allora se questo video il titolo sarà asterisco asterisco finito male è perché ho sboccato l'anima se invece no beh mi auguro buona fortuna da solo si che forse sta roba pizza paradiso ah vedete 24 ore su 24 quindi se uno ha fame di notte viene qua si fa una pizza in tre minuti e si vola dai dai ci siamo quasi ci siamo quasi l'immagine di copertina sembra figa guardate le mani c'è la viola dal freddo dai 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 che ci siamo vai si vola sparami fuori sto pizzone la pizza ce l'ho ora sono curiosa prova di macchina che cavolo allora non lo so oh mio dio non lo so non lo sai ma l'hai già vista? ma ci credo non l'ho ancora vista è che non c'era né pizza margherita né nulla e cosa c'era? e questa qua è pizza route 66 che mi sembrava la meno schifosa e sarebbe? non lo so non capivo tanto bene oddio che odore che odore cipolla sì cipolla tantissimo io ho già dato uno squaletto è solo che sai cosa che mi disturba un po'? è che questa roba qua vista che ketchup che schifo cosa? oh ma potete non tagliarla però eh cioè ma l'odore posso dirti che non sembra male? allora la pasta cruda completamente come è cruda? bene così non la digerisci e stai male e qua non si può mangiarla all'americana no Simone no 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 Simone non parla abbiamo dei fazzoletti? niente più no mi viene da vomitare a vederti brucia brucia l'hanno non cotta tanto bene secondo me quanto ci ha messo? tre minuti tre minuti ah quindi quello è vero? sì sì non ha clickbait no no raga no guarda secondo me se la mangia tutta spruzza che è un piacere allora tu devi dire se tu mi stai sfidando allora glielo prendo come sfida no 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 e che raga è cruda lo vedo che è cruda ma che cosa? me lo spieghi? non è salsa di pomodoro e ketchup e ketchup te lo giuro eccolo un po' i conati allora il formaggio è buono il formaggio è buono poi tipo bacon qua va bene ha presa anche una col gusto americano e che le altre c'era tipo una con carbonara e peperoni però non mi sembra tanto il caso no le pizze normali erano finite quante costa? tanto cosa vuol dire? tanto spara una cifra non lo so 10 euro 12 euro 12 euro 12 euro 12 euro? no 11,50 forse è solo che non mi ha dato lo scontrino l'unica cosa figa è che puoi pagare col bank ma ci credo che puoi pagare col bank perché se ne prendi 5 o 6 ah si ero lì raga allora cioè io sono curiosa posso? si si ma stai scherzando? no voglio assaggiarla tieni un po' questa telefona no no ecco vedi poi tu non mi c'erisci veramente ma non la mangio tutta sono solo curiosa no 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 te la riempio un po' però no 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 voglio un morso ah ma vabbè prendi quello che vuoi è che ma quello rigurgitato no 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 non è rigurgitato è tutta molle oh santo cielo hai capito qual è la consistenza? oh santo cielo hai capito com'è? eh vabbè ma allora non è che riesco a capire molto eh ti ho avuto il morso qua aspetta guarda quanto mangio ancora guarda che voglio di mangiare ancora e ketchup ma non è ketchup al posto del pomodoro è ketchup e pomodoro perché secondo me è proprio è proprio il ciastro eh perché secondo me no 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 e il gusto ma non scherzare nemmeno è proprio il tipo di pizza cioè la tipologia americana lì quella che hai preso io vorrei per amore del video per amore di chi mi segue finire questa pizza però in questo momento ho anche un po' di amore per me stesso cioè devo essere sincero è acida a qualcuno magari può piacere è acida raga la consistenza è questa sa di aceto sicuramente gli ingredienti per costare 11,50 euro devono essere buoni per forza però ammassati tutti così cioè io dico basta mi ritiro beh però per essere fatta da una macchina no allora no per essere fatta da una macchina ti dico cioè comunque rotonda è rotonda è ben messo in ingrediente tutto ma non è che fatta da una macchina sarà già fatto e la macchina la inforna e basta la pizza surgelata ma di un po' guarda e chi cacchio c'è lì dietro con il savoir faire di come si chiama quello paradisio lascia perdere la pizza è fatta congelata e surgelata e viene piazzata dentro un forno ed è per quello che è mezza crudo scusate se non sono così intelligente vabbè ok però apprezzo l'impegno comunque di aver costruito una macchina del genere guarda che a parte 24 ore su 24 se uno si quella è vera avesse fame va lì si piglia una pizza si fa mutuo però si prende una pizza sono stato curioso di averla provata si ma non capisco ti fanno i buchi qua sotto cosa saranno questi buchi ah così la prendi direttamente ah no è per la macchina mi sa puoi buttarla che mi sta impuzionando tutta la tesla no non la buttiamo no non la buttiamo no no piuttosto la diamo da mangiare agli animali che ci sono esatto abbandonati ah vuole fuori la casa nostra sono anche un sacco di animali piuttosto sono andate a mangiare loro che cavolo no buttarla no no il cibo non si butta 11 euro 50 per far mangiare degli animali che buttarla che cavolo no il cibo non si butta anche se non può non piacere capita o che non piace è che ti puoi mangiare una roba che non ti piace poi stai male raga io ve l'ho detto ho voluto provare questa pizza perché sapete che io sono curioso di provare tutti i cibi solitamente mi piace quasi tutto questo devo essere sincero non mi piace non posso neanche sforzarmi e star male ma non sei fuori no 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 però ecco non voglio comunque buttare non bisogna buttare che il cibo fatemi sapere se anche voi avete già provato robe del genere se le vostre esperienze sono state migliori delle mie mi auguro di sì se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace già solo per il coraggio iscrivetevi al canale se ancora non avete fatto e noi come sempre ci veniamo con il prossimo appuntamento sempre alle 14.15